Ora andiamo a Siderno per la manifestazione per chiedere la bonifica dell'area dell'ex azienda farmaceutica BP, una bomba ecologica secondo i cittadini. Siamo convinti che la tutela della salute e dell'ambiente non sono mode ma sono diritti, diritti fondamentali dell'uomo imprescindibili. Giù le mani dagli ospedali! Il 12 aprile 2016 Pino Ieraci, Celestino Napoli e Francesco Martino incontrano il suo amico. Il vice sindaco di Siderno, Anna Romer, esprimendo la propria preoccupazione per quanto riguarda l'azienda SICA che si trova vicino alle loro case in zona Pantemizia. Il giorno successivo incontrano il sindaco Pietro Fuda che si dice molto più preoccupato per quanto riguarda l'azienda BP che è ormai chiusata da molti anni e da molti bidoni abbandonati. I giorni successivi iniziano a informare la popolazione. I primi giorni di settembre, Sassal Banese recupera il materiale inerente alla fabbrica BP e il giorno 6 settembre, insieme a Mimmo Panetto e Francesco Martino, presentano la situazione dei materiali ivi presenti. Il sindaco ascolta con preoccupazione la relazione ricevuta e immediatamente informa la regione Calabria. Nei giorni successivi con un volantinaggio si informa la popolazione e si convoca una riunione presso l'Immica per il 27 settembre. Questa sera siamo qua per cercare di allargare la base di questo comitato che è nato spontaneamente. Possiamo dire che non è mai morto veramente. Non so se tutti conoscono il pianeta Vatti. Cioè questa è una storia che dureranno tanto. La storia... Che dureranno quando eravamo ragazzi. Esatto, quando eravamo guardati. Quando eravamo guardati. Allora, in pratica, questa fabbrica, questa BP, che sorga un giorno sul nostro territorio, per la prima volta è stata impiantata su una circonvallazione. Praticamente dove ci sono i capannoni, dietro al corno degli eraci, là anche la zona. Per la prima volta è stata impiantata. Poi chiaramente, era troppo, era troppo, troppo e troppo. Ed è stata spostata lì in zona dove ancora ci sono i luderi. E mi ricordo che allora la situazione era tanta, no? E ci hanno assicurato, pure la politica, c'è vero, no? Che avrebbero fatto un biscotto biblico. E un biscotto lo prepararono veramente. Vabbè. Comunque, questa fabbrica produceva sostanze per la medicina, per la farmacia, per la farmacia, per la medicina. E erano sostanze che emanavano soldi tremendi, non si potevano vivere, gente ricoverata per bruciori agli occhi, bruciori alla uova. Ma addirittura noi siamo, ancora mi ricordo che abbiamo usato tutta Italia per trovare un giro che ci resta una mano. E non siamo riusciti ad avere risposte da nessuno. Ma addirittura un certo Todeschi, che era nel partito radicale allora, ci ha consigliato di vedere altrove, perché se interveniamo qualcuno di noi non lavorerà più in Italia, in un mondo, in nessun posto. e abbiamo avuto risposte così, però non ufficiali dall'Olanda, perché così, per caso, io ho impagnato avvaldese, che erano avvaldieri universitari, quindi abbiamo saputo che produceva problemi grossi, tumori e questa storia. Comunque, questa fabbrica allora c'è stata una lotta proprio cruente, con manifestazioni, mobilitazioni, c'è stata pure partecipazione, anche se non canta quando ci si aspetta, perché su problemi simili, e su scelte simili, perché poi un discorso diventa pure un tipo politico, per un territorio tu o scegli una via o scegli un'altra, poi questi territori nostri non sono vocati per questo tipo di attività assolutamente. Comunque, tra varie vicissitudini, questa fabbrica ha avuto dei problemi, è esplosa una prima volta, poi è esplosa una seconda, poi è stata... con un'altra, poi è un'altra, poi è un'altra. Alla fine, non è grazie all'intervento di qualcuno che sta in questa sala, o alla forza, più che all'intervento, non va più aperto. E là dentro sono rimaste 120 tonnellate di residui, di liquidi, di bironi pieni di queste sostanze. C'è stato un intervento negli anni 2000 nella regione, dopo l'ultima esplosione, e ha bonificato una certa quantità, mi pare un 450 tonnellate. poi tutto è morto, non si è saputo niente, questa è stata una tema parlamentare, quindi non si è saputo più niente, e nessuno sapeva di questa disgrazia. Poi, qualche mese fa, indagando eccetera, tramite alcune situazioni che si sono create, abbiamo scoperto documentalmente che ci sono 900 tonnellate di rifiuti altamente tossici. perché noi ci stiamo, ci stiamo abituando a non indignarci delle cose che interessano. Per esempio, dobbiamo riprendere con convinzione la necessità di indignarci delle cose. ci sono due o tre problemi in Italia, dove sembra che c'è un muro di moto. poi c'è in molti, o se no, se si parla in pochi, la bomba sorda che succederà a noi. E tra questi sono l'ambiente e i riti dei loro organi. su questo argomento, lo Stato, il governo, le istituzioni, tutti si muovono. se non c'era un'occupazione, non c'era proprio. noi dobbiamo creare un'occupazione pubblica. io voglio dire una cosa. io, da segretario del Partito Comunistico Pagliari di Siderio, ho fatto di venire a Siderio con il professor Finelio di Pagliari, ma il maschio delle esperienze epologiche, il professor Necchia, che è il padre dell'ecologia e di libertà. il professor Rodotà, presidente della Camera, successivamente a piedi ora. la PP ha avuto un'attenzione nazionale quando c'era una mobilizzazione generale dei cittadini di Siderio. il presidente della Repubblica, per chi, ebbe a chi un giorno saluto le donne, i uomini, i cittadini di Siderio che stanno facendo una battaglia di civiltà. queste sono cose che dobbiamo, come dire, ricordarne perché vanno a parte con la nostra propria pianta. brevemente dico che la PP è una, per chi non lo sapesse, è una fabbrica che è nata a Siderio, ha avuto inizio di attività il 25-10-79 e seguendo delle fasi alterne, più fortunate, meno fortunate, eccetera, ha lavorato fino al 5 novembre 1994, data in cui è scoppiato un reattore interno e quindi è stata sottoposta a sequestro da parte delle autorità giudiziarie di giudiziare con un blocco di due anni di attività. entro quei due anni si sarebbe dovuto bonificare, si sarebbe dovuto fare tutti i lavori necessari per consentire alla PP eventualmente di riprendere l'attività. ciò non è avvenuto, per quale motivo? perché nel frattempo c'erano evidentemente delle situazioni territorie della società e nel 96 è stata presentata la prima istanza di fallimento nei confronti della PP e nel 99 con la sentenza 29 del 99 è stato dichiarato il fallimento della PP. quindi in sostanza l'attività della società si è fermata in un primo momento per lo scoppio del reattore e poi evidentemente è stato dichiarato il fallimento e quindi non ha potuto continuare la sua attività. In seguito si è attivato il commissario per l'emergenza e ha sempre nella persona di Valtieri, dell'ingegnere Valtieri e ha anche avviato una gara, una gara per la bonifica. Questa gara per la bonifica dell'area è stata vinta dalla società real service dalla società real service pronto intervento ecologia e seppia per l'importo di 550 mila euro. sono andati, hanno proceduto a questa bonifica ma una volta entrati sul sito si sono accorti che c'era molto di più da bonificare, che quei 550 mila euro potevano bastare soltanto per bonificare una parte di tutto il sito e quindi hanno bonificato quella parte, hanno comunicato che però appunto c'era da fare altro e al tempo stesso il commissario per l'emergenza si è insinuato al passivo dell'ABP per ottenere il rimborso di questi 550 mila euro spesi per la bonifica perché secondo loro questa bonifica era a carico della proprietà una delibera in consiglio comunale ed è la prima volta che ci sono accade abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo disposto un assoluto diritto di impiantare fabbriche chimiche nel settore mistero tutto il consiglio comunale si devono del 11 febbraio 2017 aveva rifatto l'articolo 5 è una cosa statuaria la regione si permette di non tener conto è una cosa vergognosa lo dico perché quello l'ho fatto io e l'ho passato a Peppe Opedesano che allora era Presidente del Consiglio del Business Italiano quello diceva sul territorio comunale è evitato l'insediamento o l'implicazione di nuove fabbriche depositi, impianti e laboratori chimici, farmaceutici e biologici che usano, produttano, scaricano e o le mettono nell'acqua in superficie, nel sottosuolo o in atmosfera sostanze riconosciute o che le ricerche scientifiche dichiarano fortemente irritanti, corrosive o d'origine, nocive, tossiche, cancerogene, teratogene, mutagine, ecotossiche radioattive, esplosive, dannose e oppure ricorragie per la vita o l'ambiente allora, questa è una cosa che qualsiasi comuni e qualsiasi ragione dovrebbero tenere conto perché si tratta indipendentemente dai problemi di rifiuti della salute dei cittadini con la che sono fotografici Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scopriamo a gennaio che la Sica, dovendo effettuare dei controlli nei piazzomini posizionati sotto lo stabilimento, ha trovato delle sostanze pericolosissime, che sono la trierina, il cloroformio e il tetracloro-1 di etilene. Dal mese di gennaio in poi, quando viene scoperta questa situazione, vengono effettuati vari controlli dall'ARPACAL e anche dal comune di Sederno. Nel 2013, persone di Sederno e di partenizia hanno inviato una denuncia a tutti, possibile e impossibile. Nel 2013, da quelli che ci siamo partiti noi, c'è il comune, Carabinieri, Polizia, il Ministero. L'abbiamo da tutti, com'è comandato? C'erano 700 firme depositate per l'ARPACAL. Questo incontro segue, di circa 15 giorni, un incontro che c'è già stato a proposito delle criticità che si sono verificate sul territorio di Sederno, soprattutto nella zona, è partita dalla zona di Pantanizia. Noi abbiamo, in quella sede, avevamo fatto un po' il punto della situazione, qual era il livello di conoscenza che avevamo. E abbiamo promesso ai cittadini e anche all'amministrazione che, come osservatori ambientali e come Comitato di Cittadini per la Difesa della Salute, avremmo messo in atto alcune iniziative. E siamo qui a rendervi conto di quello che è stato fatto e di cosa pensiamo che debba essere fatto. Ufficialmente la Sica produce polimene acrilici per cemento e calcestruzzo. Una prima linea prepara i polimene acrilici e poi sospendono la produzione, riprendono l'altra linea e fanno il prodotto finale. Il 14 ottobre c'è una lettera per cui molto probabilmente l'autorizzazione della regione alla Sica per avere l'autorizzazione interata ambientale. Perché fino a settembre la Sica era stata bloccata due volte. Quindi in pratica la prima volta a luglio in attesa di questa autorizzazione. Poi avevano richiesto una riappertura perché nella riappertura in quanto era rimasto del materiale all'interno del reattore. C'è un materiale talo, mi disse in grigoli, quindi non andiamo a dire solo sui termini tecnici, che dicevano che è pericoloso se restava all'interno di questo reattore. A settembre ha chiesto una nuova riappertura, mi era stata concessa per smaltire questo materiale. Fatto questo controllo sono risultati dei valori che anche loro stessi, il sindaco lo può confermare, quando ha visto questi dati che chiaramente dimostravano se fossero produzioni loro, se fossero sostanze che provengono dalle loro produzioni, e poi ci ragioniamo, chiaramente questa fabbrica è incompatibile per il territorio, però se fossero materiali che escono dalla loro produzione. E questo è da verificare. Stiamo parlando del 29 novembre 2016. A gennaio, 30 gennaio, l'ARPAGAR, di fronte a questi fatti, chiaramente dati inviati alla regione, l'ARPAGAR ricontrolla negli stessi 7 piezometri messi all'interno della sigla i dati. La cosa strana, la produzione era ancora attiva, se ben chiaro, poi vi spiego perché, i dati sono in alcuni casi addoppiati e in altri casi addirittura triplicati. Nei 7 piezometri della sigla, i valori avevano da un minimo al massimo, i dati ci sono perché voglio vederli, quindi c'era il minimo al massimo. Noi facciamo il confronto rispetto al massimo, però è indicativo che in quella zona non c'era uno dei 7 piezometri che non superasse il valore stabilito. Questo deve essere chiaro. Quando è venuta la dottoressa Cartile, che è la responsabile, la chimica dell'ARPAGAR, la Reggio Calabria, è venuta a riferirmi. riguarda che noi abbiamo fatto le analisi su 7 piezometri che la sigla ha costruito su indicazione dell'assessorata e sono venute fuori queste cose. Questo è un fatto preoccupante. Allora abbiamo fatto immediatamente a riunione con l'assessore regionale, il quale devo dare atto che è stato molto sensibile e la sua sensibilità la sta mantenendo. perché noi avremo, l'ho già avvisato, in altre riunioni, lunedì con i geologi e tutte le altre cose. E cosa stiamo facendo? Il primo passaggio è fare un piano di caratterizzazione di tutta la subalvia per cercare di vedere, di individuare la fonte, l'origine. La riunione giusta, sono accettata dagli amici che sono qua. Non mi nascondo che... Io l'ho accettata subito perché noi ci troviamo in una posizione di questo tipo. L'altro giorno la cartella, quando è venuta, diceva voi avete una bomba sotto i piedi, ma da pare che se ne non siano accorti. Noi non vogliamo allarmare, vogliamo ci chiaro. Però vogliamo informare di quello che c'è sostanzialmente e di quello che stiamo facendo. Perché è il nostro dovere farlo. Questo è l'obiettivo di tutta questa questione. Non facciamo confusione. L'occhio potabile che stiamo tenendo sotto osservazione, per adesso è tranquillo. Il problema è della parte. Ma una volta significa che non possiamo lavare verdure, che non possiamo innaffiare per prodotto, per produzione agricola, non possiamo fare tante cose con quella falta di quel tipo. C'è l'altra falta dove c'è l'arsenaco che adesso accerteremo con tutte queste indagini che stiamo facendo. È chiaro che vorremmo venire fuori con una cosa compiuta per continuare a tenere sotto controllo la situazione in questa terra. Un'altra notizia che mi è sfuggita. Quando è venuta la signora, sono venute quelle della SICA, per dire guardate che è successo questo e queste sostanze non sono compatibili con quello che noi usiamo, dice la SICA. Noi abbiamo fatto fare all'ARPA, Carlo. La comparazione anche con tutte le analisi ufficiali, quelle che si sanno, di quello che è ancora stoccata l'ABP. Perché l'ABP non dobbiamo dimenticare che abbiamo 900 tonnellate l'ARPA che deve essere rimossa. Speriamo che questa sia la volta buona che si rimuova questa questione. Però abbiamo l'analisi chimica ufficiale per quello che si è visto. È fatta la comparazione anche con quelle analisi. Le analisi sono attendibili, a meno che non ci sia qualcosa di diverso che non è stato analizzato. L'informazione. Qui il dottor Catardo, consigliere comunale, ha detto testualmente noi, voi ancora non vi siete raggiunti, un ultimo consiglio comunale, perché ancora i problemi dei tumori, a sera non sono esplosi, perché aumenteranno il tempo. Non lo dico io, ma lo sanno tutti. Tutte queste cose, come diciamo noi, che abbiamo questa percezione. Qui siamo belli tranquilli, siamo tutti tranquilli. C'è la bomba ecologica che è l'ABP. L'ABP, poi la riprendiamo. L'ABP l'altro giorno ci siamo andati a noi, grazie alla carmina che chiesto di andare a visitare, è preoccupatissima, ci ha detto che in quelle condizioni, quel terreno non può stare perché ci sono le erbe, se scoppia un incendio, se scoppia un incendio, oltre al fatto che Pino, è un altro dell'ABP, ha sentito puzza, della famosa puzza degli anni 80, e noi qui stiamo tranquilli a discutere se c'è un po' l'ABP, più o meno altro. Questo deve essere l'area. cioè, c'è una gente che deve applicarsi per chiarimento, le sostanze che sono l'ABP non c'entrano niente, quelle che sono l'ABP e le erenche ufficiali della regione, con queste, a me lo si sono ricombinati, non sono trighierina, non sono tetra-colonetraire, non sono prolocutore. Il tanto ufficiale, le 70 sostanze ufficiali del 2003 della regione, con questo non c'entrano niente. L'area dove c'è la SICA è drammatica. Se riuscire a leggere quei dati, chi vuole vederli, poi c'è qualche copia che posso darla, è da 2016, da novembre 2016, che si fanno analisi, compresa la stessa SICA, quindi sono dati, questi ultimi sono dati dalle SICA, che ho obbligato per legge a fare due rivelazioni annuali, giugno e ottobre, di tornese, e da quando, dal novembre 2016 fino adesso, quell'area è completamente impinata. Quindi su questo, anche fuori dei numeri, abbiamo situazioni che dal 2016, siamo al 2020, non si è mai risolta. Sono veloce. Fino adesso, il dolore massimo che si è ottenuto nel 2017, arrivava a un valore 400 volte di un materiale che si chiama, detto al volume di telemo, e come tutti questi sostanti sono cancerogene o potenzialmente cancerogene, era al massimo 400, quindi i dati che si possono trovare sinteticamente lì se uno ci ragiona un pochino. La cosa che non sono preso, io ho avuto i dati giovedì mattina dal comune, la messica di Chiavelo, e per fortuna adesso ho tutti i dati dal 2016 al 2020, ma la cosa che sopra mi ha colpito è che la sostanza corofono è 1500 volte il valore massimo che la legge prevede. andiamo da 450 circa a 1500, poi se qualcuno vuole essere più nuovo è 1499,13, ma siccome i dati ci sono sempre delle tolleranze, già forse 1000 non cambiava molto, già forse 400 non cambiava molto, allora lì è una situazione incredibile a dirsi. Io presumo che il comune stia da venendo, però questi dati ce li hanno 5 o 6 associati, cioè enti che di questi si occupano, i settori ambientali del comune che li hanno dati, c'è la città metropolitana del settore ambiente, c'è l'Alpaca, c'è l'Aste, c'è la ragione, quindi tutti questi enti sanno, si spera, che questi dati non possono continuare a esistere, che quella situazione non può andare avanti, è una situazione veramente drammatica, non so come definirla, tragica, perché questi valori non si erano mai raggiunti. Poi, da cosa dipende questa sorgente, nel 2018 sono state fatte 24 piezzometri da parte del comune con i soldi della regione e questi valori massimi non sono esternamente all'area della Sica, non sono stati mai raggiunti. Sono quelle tabelle piccole, è una sintesi chiaramente per non essere lungo. Quindi, noi siamo che malgrani sono stati fatti analisi, controlli, tutto quello di solito, la situazione è peggiorata. Anche le altre due sostanze di etilene ha valori che vanno sui 200-300, non è che stiamo parlando degli altri siano valori molto più piccoli, perché sono valori con sostanze cancerose e quindi sono cose che si tratta di lineare. Non si è trovata la sorgente, si hanno provato, hanno fatto delle ipotesi, l'ultima che mi stanno riferita e che pensano che si siano delle sostanze sotterrate, l'idea che hanno è di andare a fare altre due zone in un'area che sopra, scusate ma aggiustamente o più di miei, ci sono sostanzialmente delle aree sopra da chi conosce la zona della Sica in cui si pensa che si è stato sotterrato per materiale. Stiamo preparando una manifestazione con partecipazione anche di parlamentari per la questione IPT. E' arrivata questa sostanza cancerogene che è più urgente sostanzialmente e come ha detto Arturo Rocca poco fa stiamo cercando di accoppiare le due cose. E' chiaro il discorso stiamo cercando di lavorare ma non ma avendo il senso del reale avendo il senso della comunità dove ci troviamo e dei diritti di una comunità che sono stati sempre calpettati. Non è che stiamo improvvisando soltanto il teme B impianto di trattamento meccanico biologico che si trova vicino al torrente Novito di Siderno al confine con l'Otti da anni crea problemi con fastidiosi e fluvi diciamo che si diffondono sia a Siderno sia a Lopi ma anche a Ragnar che dista sei chilometri verso la collina. In questi anni ci sono state molte proteste dei cittadini e incontri in regione nei quali i cittadini di Siderno hanno sempre respinto un impianto che potesse creare più problemi di quanti ce n'erano. Dai documenti pervenuti si scopre che l'impianto verrà duplicato per quanto riguarda l'estensione e ci saranno quattro cammini invece di uno attuale. Dal punto di vista più pratico le sostanze od origine passano da 300 a 690. Ecco noi ogni tanto purtroppo attraverso gli anni dobbiamo mobilitare i cittadini i partiti le associazioni in quanto la situazione di Siderno dei rifiuti e del trattamento è diventata insostenibile. Adesso la regione ha fissato all'albo un progetto il quale vuole ampliare quello che già abbiamo a Siderno. essendoci a Siderno 42 comuni Ato in parole povere nessuno dei 42 sindaci si muove per cui i cittadini devono sopportare tutti questi problemi di odori nauseobondi che stanno chiusi dentro le case le finestre chiuse tutta l'estate abbiamo visto che si è hanno cercato di cercano ogni tanto di trasformare di aggiustare ma la situazione è stata sempre negativa quest'anno si è sentita anche nel centro di cittadini di Siderno per cui i cittadini sono arrabbiatissimi e quindi questa struttura non la vogliono più né la vogliono allargare la regione ha presentato un progetto agli atti del comune di Siderno e stranamente in questi giorni giorni di feste di ferie religiose giorni che se noi non ci fossimo accorti della visione all'alba di questo progetto si sarebbe ritenuto tra un mese praticamente avrebbe cominciato il suo iter dell'approvazione noi vogliamo chiamare in causa tutti i primi cittadini i partiti politici le associazioni ambientalistiche oggi noi per stasera abbiamo convocato tutti e vogliamo noi ascoltare anche gli ingegneri quello che ci dicono stasera noi abbiamo mobilitato anche i progettisti che hanno letto i progetti in parte perché c'è stato poco tempo sono migliaia di pagine a dirci se noi possiamo opporci a questo altro sono state stanziate 42 milioni che poi noi Siderno è stata dichiarata comune che non vuole più la chimica all'articolo 5 del comune di Siderno c'è un articolo che la chimica è bandita da Siderno quindi noi altre diabolerie chimiche a Siderno non ne vogliamo stasera partecipiamo a questo incontro promosso da Damoc la Ricerò perché vogliamo capire meglio che cosa sta succedendo in questo nuovo progetto che è stato predisposto dalla regione Calabria per l'impianto TMP di Siderno prioritariamente noi avevamo posto il problema che l'impianto doveva essere spostato perché all'interno di una zona densamente popolata invece che pensare a spostare l'impianto si è pensato di ampliare l'impianto allora noi innanzitutto poniamo continuiamo a porre il problema che quello non è il posto giusto per un impianto di separazione dei rifiuti anche perché da anni i paesi della fascia che vivono prevalentemente di turismo sono mortificati dalla puzza che proviene da questo impianto allora poniamo il problema e lo porremo stasera in termini interlocutori con le altre forze ma lo porremo soprattutto il giorno 23 quando verrà l'ingegnere Francesco Martino che è il progettista di questo nuovo impianto perché vogliamo capire come mai si continua a voler spendere 42 milioni di euro in un posto che è assolutamente inadatto per un impianto di trattamento dei rifiuti e quindi porremo il problema dello spostamento e poi vogliamo capire se loro continueranno su questa strada vogliamo capire nel periodo di vacanza perché l'impianto sembra che sarà completamente smantellato e quindi in questo periodo dei lavori non si potrà conferire a Siderno che cosa succederà se San Batello è in attivo Gioia Tauro è di là da venire a Siderno che cosa succederà perché siamo già invasi dai rifiuti dappertutto perché non c'è una politica seria anche di combattere l'abusivismo comunque con Francesco Martino che fa parte di un comitato di difesa della salute dei cittadini insieme stiamo cercando di capire che cosa sta succedendo e porremo seriamente il problema perché la popolazione deve sapere che cosa succede noi la soluzione al problema dei rifiuti la vogliamo cercare però la vogliamo cercare in maniera ponderata non spendendo denaro pubblico e poi pensare che forse ci porrà il problema di spostare dopo aver speso 42 milioni di euro si porrà il problema che forse sposteranno penseranno a spostare il sito perché non in questo momento e farlo dopo aver speso queste cose allora vuol dire che i soldi servono solo e unicamente per foraggiare imprese faccio parte della zona nord di Sederno noi abbiamo beccato per 40 anni l'ABT ancora ci sono i bidoni fuori con i soldi disponibili ma i bidoni ancora sono lì fuori ad inondarci di varie sostanze incredibili quindi abbiamo rovinato la zona nord ora ci siamo trasferendo nella zona sud ma la cosa che mi permette a dire più di tutti io sono solidale come ho sofferto da una vita quella storia sono solidale con gli abitanti di San Leo questa gente sarà costretta come ho sofferto io a tutti gli abitanti dell'altra zona a beccarsi chissà per quanto tempo questo scempio questo ampliamento voi potete dire sì sono nuovi ma sicuramente vedrete che problemi che userà allora io propongo una cosa gli abitanti questi che non vivono non mangiarono sono liberi fatti loro hanno solo quei soldi con la casa prima degli impianti prima degli impianti staggianti il capo gli impianti questa gente questa gente questa gente prega al pubblico di non intervenire mentre ballonati allora io ho una proposta io ho una proposta allora sta bella fetta di 42 milioni di euro allora prendiamo la parte vediamo questi pochi disgraziati che dovremmo sopportare per voi e per le vostre astruserie che devono sopportare per 30 40 anni questa storia pittiamo sta parte visto che la spartiamo un po' tutti pittiamo sta parte di 42 milioni gli compiamo una casa in un altro posto aspetta gli compiamo una casa allora voi sindaci a regione Calabria o chiudo un presidente andate lì a sentire l'odore di sotto un bosco un cavolino come è stato detto vi mostro una fotografia penso che la vediate anche se non è molto grande la zona rappresentata in azzurro è la zona di rispetto attorno alla fiumara attorno al torrente in quella zona come potrete vedere ricade già l'intero l'impianto esistente mi rivolgo principalmente ai consiglieri non ai rappresentanti della regione delle ottenuzioni perché so che là la decisione è già stata presa a me quello che interessa è che siano i consiglieri oggi in rappresentanza di tutti noi sidernesi a dire che cosa vogliono veramente fare il tuo territorio e che lo dicano in maniera aperta affinché resti come ho scritto qualche tempo fa quella è l'unica zona verso la quale si può espandere siderno soprattutto in previsione del progetto di conurbazione di cui tanto si parla noi abbiamo la città del mare che verrà realizzata 500 metri a valle e 500 metri sopra ci mettiamo un impianto che sarà una ferita mortale per quelle che sono le ambizioni turistiche o comunque espansionistiche della città volete questo? allora fatelo votatelo per me questo è un assurdo è un assurdo perché viene realizzato un impianto in un luogo dove non può essere realizzato e invece di pensare di correggere il tiro e quindi di spostarlo in un luogo idoneo entro 150 metri siamo dalla torrente in zona dove non si può costruire pensiamo di raddoppiarlo addirittura lo chiamiamo relamping lo chiamiamo ampliamento non è nemmeno un ampliamento è una nuova costruzione come qualcuno mi insegna l'ampiamento non dovrebbe superare il 20% del preesistente è quasi un raddoppio non voglio discutere di tematiche relative alla salute dei cittadini ci sono stati altri che l'hanno fatto io vi dico quando andrete a votare pensate al fatto che voi ponete un freno a quello che è lo sviluppo della città alla quale dite di essere tanto legati alla quale dite di voler tanto bene e proclamate noi lavoriamo per il bene di Siderno pensateci bene prima di votare in una certa maniera la comunità europea con le sue direttive tra cui quella di non impattare sull'ambiente c'è una direttiva precisa che è il principio di non sacrificare l'ambiente un principio che poi noi saremo chiamati ad applicare e tornando a merito di questo progetto questo progetto lui non riceverà mai i fondi che l'Unione Europea gli aiuti economici europei perché si tolgono in contrasto proprio con quelle direttive successive le recenti le recenti normativi sul punto spingono verso l'economia circolare dove il TMB è passato è passato di moda quindi stiamo facendo una discussione su un punto che l'ormativa europea è arrivata più avanti l'Italia si sta attrazzando più avanti tanto è vero che come diceva prima Franco Martino nell'ambito della città metropolitana c'è un cambiamento di tiro di vedere se si perde mi pare l'importo del progetto e quindi su questo punto io credo che c'è molto da riflettere questo TMB così come è stato progettato è obsoleto noi stiamo camminando indietro stiamo facendo una discussione che rispetto ad altri ambiti siamo un pochettino passati nel termine in arretrato quindi stiamo facendo una discussione fuori tempo mi rendo conto che la problematica è attuale però i suggerimenti che venivano dagli interventi precedenti che sono quelli della prossimità della gestione di prossimità dei rifiuti sono suggerimenti che questo consiglio comunale della sua sovranità potrà dare potrà dare come una deliberazione dove dimostra quale sia l'attenzione verso quell'aria dovevo fare anche un'ulteriore precisazione è vero che siamo a un power concluso però su questo power ci sono due ricorsi uno impiantato dai commissari dell'ente quindi un'attenzione dello Stato rispetto a questa problematica e un altro da parte di privati cittadini quindi c'è anche un aspetto legale che mi pare che sia in campo e se si va in fondo a vedere se effettivamente quel power abbia i pareri che sono venuti per legge voi non troverete mai il parere del settore urbanistico cioè il nostro ente il nostro ufficio tecnico dà un parere contrario se andate ad esaminare se ci sia un parere da parte del Dipartimento Urbanistico della Regione all'altro dell'emissione del power non si pronuncia quindi ci sono le problematiche quindi ci sono una serie di problematiche che impongono una riflessione impongono una rivalutazione se quell'aria si adatta a a questo amplimento che è veramente importante che potrebbe determinare il rischio di aggravamento delle condizioni di vita di quell'aria la scuola sulla sanità effettuata dai vari governi ha colpito anche la carattina nel 2010 sono stati chiusi 18 ospedali della Regione il 22 novembre del 2020 Sassà Albanese di fronte alle proteste che in tutta la Calabria sorgevano per l'inefficienza degli ospedali decidi di convocare un presidio davanti all'ospedale di Siderna un'iniziativa che raccoglie col tempo vari cittadini e finisce a maggio del 2021 in questi mesi e ancora adesso stiamo continuando ad aspettare che venga risfrutturato l'ospedale di Siderna e venga trasformato in casa della salute siamo al momento a progetti esecutivi in questi tre anni sono sorti tanti comitati in tutta la regione che vogliono che la salute dei cittadini venga salvaguardata e non vengono chiuse le strutture presenti nei diversi territori e due sono gli argomenti più fondamentali il primo è un presidio ad oltranza si inizia da oggi fino a che non si hanno risposte qui ogni mattina dalle nove e mezza alle dodici e mezza seconda cosa è la piattaforma c'è un gazebo dove potete firmare una piattaforma che è stata predisposta dai sindaci da proporre a chiunque volesse venire qui da Scura a Oliverio ai ministri e a chiunque altro se ci fate iniziare iniziamo se no allora io chiamo sul palco subito per i saluti Giovanni Calabrese il sindaco di Locri il bescovo Monsignor Oliva i presidenti dei sindaci Franco Canti e Rosario Rocca inoltre stiamo aspettando perché pensiamo sia giusto dare una parola solo a uno studente che rappresenta un po' la voce di tutti gli altri studenti essenzialmente non abbiamo avuto riscontro da nessuno di chiedere la partecipazione dei cittadini per organizzarci tra di noi perché essenzialmente il diritto viene negato a noi cittadini quindi è il caso che prendiamo le redini della situazione uno dei drammi che noi dobbiamo affrontare nel prossimo futuro in forma colpa sanitaria noi abbiamo 1.760.000 euro a sidermo quando abbiamo altre 6 case della salute finanziate con somme che vanno tra gli 8 e 9 milioni 7 milioni e mezzo di euro fermino spese abbiamo 150 milioni per costruzare il padre per la partecipazione che si ha a 10 anni di distanza che non è stato messo il mattone tutto questo induce a credere che se non cambiamo la guida di questa regione se mandiamo a guidare la regione Calabria oppure persone che sentono il bisogno di affrontare i problemi non lasciarli nei cassetti a dormire noi non lasciamo noi abbiamo bisogno di costruire una Calabria diversa da quella che ci raccontano all'esterno la Calabria è un'unica tragheda è anche tragheda e anche c'è i stili criminali interessi massonici ma è anche una Calabria di gente per bene che lavora come Antonio che si spacca la schiena da una vita e come qui tanti altri e che poi se hanno un problema non ha dove andare a pensare perché di qua in Calabria chi non ha i soldi e cade ammalato deve andare o al nord vendersi la casa vendersi l'oro vendersi quel po' di beni che ha oppure tenersi in male e morire chi non mi ha in silenzio e lo l'hanno chiamato e mentre noi poi abbiamo queste grandi strutture fai vedere questa bella struttura gigante che potrete dare come risposto ai sogni e purtroppo non li dà e abbiamo chi ha la competenza oggi di gestire questa cosa che è sordo e muto perché abbiamo i prefetti dell'ASP di Reggio Calabria che prendono quasi 100.000 euro l'anno ma che sono completamente assenti e silenti e questo è inaccettabile comunque continuiamo noi siamo qua per dire a tutti e a tutto il mondo che questa battaglia andrà fino in fondo fino a che noi raggiungiamo dei risultati concreti domani chi ci ascolta ci potrà anche vedere nella prima puntata di presa diretta che illuminerà i disastri della sanità lombarda perché anche là hanno puntato da anni per interessi privati ad un'idea di ospedalizzazione con l'idea dell'ospedale come centro delle risposte che ha dimostrato durante la pandemia che quell'idea è fallita perché hanno ristrutturato e completamente cancellato la sanità di territorio e illustreranno domani a presa diretta anche i disastri che aveva presi di queste strutture che sono 18 che sono in queste condizioni come questo di Siderno che noi vogliamo vedersi riaprire erogare servizi gente a lavorare ed economia per il territorio perché la struttura di queste che funziona significa una caduta una ricaduta economica molto importante su un territorio che è già sopra di suo quando hanno chiuso l'ospedale e chi l'ha chiuso se ne deve ben ricordare perché ha delle responsabilità piuttosto pesanti l'impegno era quello di mantenere aperto il pronto soccorso di Siderno perché poteva essere utile ed era strumentale alla costruenda casa della salute invece dopo che cosa hanno fatto oltre ad aver chiuso l'ospedale in un secondo momento hanno chiuso anche il pronto soccorso e oggi in un momento di gravissima emergenza sanitaria nessuno ci apre il pronto soccorso nessuno ci porta un centro covid nessuno la storia gli ha dato torto la storia gli ha dato torto e noi siamo qui però a doverci a pagarne le conseguenze e a dover andare fuori per curarci chi ha la possibilità di farlo chi non ha la possibilità di farlo muore e si ammala come succede nel terzo mondo ed è veramente assurda questa cosa quindi anche se c'è qualcuno all'interno dell'ASP fra i dirigenti nella dirigenza che non so volesse prendere in considerazione l'ipotesi di fare un'azione forte immediata eccezionale che può farlo perché i commissari sono fatti apposta devono avere i poteri straordinari proprio per compiere delle azioni straordinarie che si rendessero conto di un fatto che qui c'è una struttura che con pochi soldi può essere con pochi soldi e con pochi in poco tempo può essere rimessa su e invece non lo fanno prendendo una serie di scuse perché sono soltanto scuse nelle quali noi non crediamo che basta è assurdo non si può aspettare da due anni se vi ricordate siamo partiti novembre del 2021 ogni volta che ci incontriamo ci stanno partendo i lavori passano sei mesi ci incontriamo di nuovo stanno ripartendo i lavori e stiamo andando avanti così in modo incomprensibile i soldi ci sono ci sono 9.760 il vando che ha indetto la regione ha previsto 7.200.000 euro quindi i fondi ci sono per iniziare a fare la casa della sola e poi chiaramente ormai non è una situazione solo siderma c'è il problema dei lobby c'è il problema delle case di Caolonia c'è il problema delle case di comunità c'è il problema dell'ospedale di Gerace la locale è abbandonata però noi vogliamo che veramente i cittadini si mobilitino iniziamo una protesta lunga questa è la prima iniziativa è organizzativa ma abbiamo intenzione di fare proposte che elencheremo durante la manifestazione in cui mobilitare tutta la popolazione non è un problema di alcuni cittadini è un problema di tutta la Calabria Buonasera grazie per essere qua noi ce l'avamo visti il 3 di marzo sono passati 4 mesi per sapere se i soldi per tutto c'erano o non c'erano noi qua diciamo finalmente cambiamo registro spero che sia la volta buona perché questo finalmente lo diciamo da molti anni stiamo parlando di un finanziamento che risale al 2013 operativo ma dal 2009 ipotizzato stiamo parlando di una cosa che dovrebbe comportare un po' di vergogna per noi cittadini calabresi per quelli che hanno avuto responsabilità in questi anni cioè in questi anni noi abbiamo perso un problema che era quello di un diritto a curarsi il diritto alla salute con grandi anche sacrifici da parte di tanti nelle piazze quello che non capivamo era perché cioè con delle strutture perché non c'è solo il problema silerno ma questa di silerno abbiamo una struttura enorme abbandonata e poi negli anni abbiamo incontrato l'enco finalmente giraro vieni qua partite immediatamente entro due mesi voglio e passa questo poi passano mesi la commissione la prefettizia che non firmava delle carte arriva arriva scattivi firme immediatamente un anno per andare a fare la gara per la selezione della società che deve progettare un altro anno per avere un progetto per poi scoprire che in questi anni quei 9 milioni ora sono sufficienti solo per una parte per cui noi oggi diciamo finalmente se prendiamo una decisione finalmente allora su quelle due ipotesi io credo che qualunque che sia una o l'altra purché si parta subito io vorrei porre una nota quasi di speranza perché noi non ricominciamo da zero sotto zero ma mutuando anche Massimo Trovi si forse da tre possiamo ricominciare perché in effetti nel corpo là già insiste un'attività poliambulatoriale che è abbastanza attiva ci sono una serie di criticità estremamente gravi che vanno sistemate che possono essere sistemate in tempi brevi c'è il corpo B quello diciamo sul retro che è abbastanza spoglio e diciamo svuotato che non spupava il centro vaccinale che è stato chiuso e questo può essere un modo di iniziare il discorso perché nei ragionamenti che abbiamo sempre fatto con il Comitato della Salute un punto fermo è stato si fanno i lavori di ristrutturazione non si trasferiscono gli ambulatori per i servizi che bene o male già insistono e quindi sapere che si parte comunque da una base può dare qualche motivo di incoraggiamento però alcune criticità vanno assolutamente dette e sono sicura che con lo spirito di assoluta propositività che noi abbiamo possono essere quasi immediatamente risolte è evidente ed è chiaro che questa casa di comunità non è di Siderlo ma è della Locrida e quindi è importante che ogni cittadino della Locrida sappia riconoscersi in quella che è la continuità assistenziale cosiddetta integrità ospedale territorio che è rappresentata questa casa di comunità si si no oggi si oggi però oggi si dando delle idee si e guardiamo si Maurizio hai anche diritto tu adesso ti prese vai a paguglio 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 si si no questa pasta sta da distanza a fine agosto 2023 all'improvviso appare sull'albo pettorio del comune di Siderlo un avviso che verrà costruito un impianto eolico nel comune di Agnara a due passi da una nei coproni presente nel comune di Siderlo non passa molto tempo e scopriamo che è in costruzione un impianto eolico anche nel comune di Antonio iniziamo a preoccuparci noi abbiamo scoperto questo proprio il Siderlo con i 20 e i 21 avanti vedete che sono quelle cose che poi finiscono pubblicamente non sono del riformato e quindi abbiamo tentato rimuoverci per vedere in qualche modo la rivoluzione ci sono basta andassere il progetto ci sono nelle terre sorgenti tre quattro sorgenti che c'era l'acqua sorterà allora volendo si potrebbe anche di dare questo da ragionare perché farsi già così ma non abbiamo altro così abbiamo il solo voglio dire ognuno di noi potrebbe essere delle che creano meno problemi è una produzione locale si evita di attraversare i territori di rompere le strade perché bisogna attraversare voi vi immaginate ogni singola allora ci sono cinque scusate se uno così lunga perché le scuse sono molto piccole ci sono cinque posizionati cinque verso i posti verranno collegati tra di loro ogni torre c'ha tre panni collegati tra di loro che durano sei metri avanti se tenete conto che sia un triangolo dall'altezza sono 140 metri la distanza di massimo per le panni si posizionano a 120 metri posso fare qualche errore però indicativamente si viva 200 metri di altezza su suono della montagna io non so quanto è alto il monte mutuo la mia ignoranza ma fra poco ci retteremo a confrontare la bellezza di questo male e la prontezza del monte mutuo perché a questo punto se queste sono le bellezze quelle che non abbiamo abbiamo le famose dolomiti le famose dolomiti nel suo Dacano abbiamo queste architettoniche archeologiche abbiamo una storia di commissione altura perché c'è un'invasione veramente un'invasione delle società sostanzialmente del nord la Calabria è invasa un altro lo stanno facendo come ha detto a Bussano Calabria sapete che nel Cattarcialese c'è un sacco di queste cose quindi si può capire e allora io dico ma in Calabria ci sono protettano solo per venerci sole per diventare neri cioè non si sa capire perché la nostra regione continua ad accettare questa impostazione di energie che creano più problemi l'ultima che sono in mercati ma cosa parla c'è che manca la proposta di un ricassificatore a Gioia perché la sede è qui cadono non so quanto gli verano non so quale percentuale gli verano nel 2007 il progetto aveva un 1,5% di condizione anima se ti ricordi il cammino pasiviano che attualmente percorre il frecciato su cui si vogliono installare questi giganti metallici viene lodato per l'alto tasso di naturalità che dimostra vogliamo distruggere anche questo vogliamo che un territorio in antico densamente popolato e dove esistono necropoli dell'età del ferro venga sconvolto dalle motopale prima e tale pale poi per la verità più che di pale eoliche sarebbe opportuno parlare di palle eoliche nel senso di bugie non di verilità gli abitanti devono poter dire la loro teniamo conto di una cosa e qui siamo nella vallata del Novipe Montemutolo che è un sito un sito SIC che significa un sito di interesse comunitario ed fa parte della rete natura della provincia di Reggio Calabria allora che senso ha andare a fare uno scempio del genere in un posto che deve invece conservare questa sua impronta di naturalità e queste specificità io non la voglio fare lunga per dire che cosa ha significato Agnana nella storia che cosa ha significato nell'archeologia che cosa significa nell'archeologia che cosa significa anche per le sue risorse termali qui abbiamo una stazione di terme salso ioli abbiamo Agnana è stato il centro minerale più importante del regno di Napoli tanto da far venire Ferdinando II di Borbone qui a visitare le cave di Agnana e sono state quelli che hanno fornito il carbone per far viaggiare il primo treno che si è mosso sulla linea ferrata Napoli-Portici e la linea ferrata Roma-Frascati è stata costruita con il carbone di Agnana adesso noi vogliamo cancellare tutto questo mettendo 5 giganti eolici che non daranno a questa comunità neanche un centesimo di beneficio perché tutta l'energia prodotta verrebbe attraverso un elettrodotto che andrà a fare scelte anche in un altro territorio perché passerebbe nel territorio di Salvi dove ci sono delle metropoli dell'età del ferro per portare l'energia alla stazione di accumulo a Siderio quando queste palle non funzioneranno più ce le lasceranno qua e noi non abbiamo avuto nessun beneficio perché come dicevo prima l'energia prodotta va al nord e allora perché vengono a deturpare il nostro territorio a questo noi non ci stiamo grazie salendo ho letto un segnale è un minerale che si prova in Calabria e in Piemonte in Piemonte ci sono 39 pale e 8 in Calabria ci sono 624 pale e 8 riflettete un minuto perché ognuno di voi deve sensibilizzare la propria intelligenza parliamo del Piemonte dove c'è una regione ad avanzato stato industriale dove c'è un sogno elevato di energia abbiamo il 39 pale e 8 la Calabria che è povera a 624 pale e 8 voi toccate con mano ognuno di voi la vostra intelligenza la vostra intelligenza tocca con mano quello che è un progetto polle che serve solo per chi ha avuto questo idea che è iniziata in giornal Pietro con la società dinamica il comune di Iagnana in quel caso ha bloccato dopo 15 anni si ripropone svantaggi si parla di svantaggi vicini svantaggi acustici svantaggi amico qual è un'amministrazione opera per 5 anni opera bene e opera male lo so che va alla fine un'amministrazione che assume una visione di questo tipo che ha una valenza perché va per 10 anni per 20 anni ha il dovere di coinvolgere la popolazione perché Iagnana è vostra non è della Agnana è decisiva e decisione senza alcun criterio perché nessuno di Iagnana ha avvertito questo bisogno di energie erose a nessuno di quelli dei cittadini di Iagnana viene in mente le paleoliche ad Iagnana perché quando noi abbiamo effettuato le osservazioni abbiamo avvisato la distinzione tra aree non idonee e aree sensibili ad attenzione che nel caso rimestono particolari tre qualcuno ha detto che qui c'è la cittadina sulla 2000 quindi è un progetto europeo che tende a salvaguardare e a creare un rapporto umilibrato ed armonico tra l'uomo e l'ambiente e tra la donna e l'ambiente quindi arrivare a Agnana in un paese che questo è un momento importante per i cittadini perché devono riflettere sulla ricchezza che ha io come Oreste che ha parlato prima faccio parte del movimento terra e libertà che è già un coordinamento di associazioni è nato nelle serre ma ci sono associazioni di altre parti della Calabria per esempio io vengo dalla Calabria meridionale estrema da San Lorenzo e Contopuri la necessità di essere un gruppo di persone mobilitate che trascina le altre perché questi che siamo qua evidentemente abbiamo la coscienza cioè ci siamo resi conto delle cose che hanno detto tutte le persone che hanno parlato prima di me la questione dell'energia pulita non si pone perché è energia sporca in questo momento gruppi di affaristi favoriti dal potere centrale stanno cavalcando l'onda verde per continuare a far affari il bilancio ecologico degli impianti di energia cosiddetta rinnovabile è completamente negativo noi l'abbiamo visto nelle serre ci sono stati inquinamenti delle falde acquifere consumo di suolo che comporta la perdita di servizi ecosistemici noi ogni anno come comunità nazionale paghiamo 2 miliardi per il suolo che è stato consumato nell'ultimo lustro negli ultimi 5 anni e questi costi ricadono su tutta la collettività mentre i vantaggi ce li hanno soltanto le società proponenti che nello stesso tempo sono delle società impegnate nello sfruttamento del gas e del petrolio a livello internazionale in Africa nell'Artico e noi abbiamo uno stato nazionale che sta proteggendo gli affari con la compagnia assicurativa SACE che ancora continuano ad andare nella direzione del fossile per cui è un grande raggiro non è vero che si sta facendo un'energia pulita si sta utilizzando quella terra meridionale che Gioantino Criaco ha definito terra di servizio è una terra che è stata immiserita spopolata colonizzata e ora è destinata a occupare impianti invasili e inquinanti a meno che non ci mettiamo tutti insieme quindi è bello che una piccola parte della popolazione di questo comprensorio si assuma la responsabilità di affrontare il problema contingente ma io direi che questa sera dovremmo uscire dall'assemblea con il coordinamento già realizzato cioè con queste realtà che si sono mosse qui sono paleoni ma anche pannelli fotovoltaici di dove non ci dovrebbero essere per esempio mi spiace che il sindaco di Lovre sia stato vivo perché il comune di Lovre ha fatto invece una bella cosa ha messo su una comunità energetica e questo è un lavoro che è un lavoro serio è un lavoro che bisogna fare ma soprattutto richiamo l'attenzione sul fatto cioè noi ci preoccupiamo di produrre più energia ma non ci preoccupiamo di risparmiare l'energia che dovrebbe venire prima del vi faccio un esempio vado all'ospedale e trovo i riscaldamenti al massimo e le finestre tutte aperte allora questo vuol dire che noi da sprechiamo l'energia prima di andare a produrre nuove energie noi cerchiamo di risparmiare quindi questa e poi l'altra cosa che ti piace dire è questo in Calabria l'energia noi l'abbiamo sempre prodotta con l'acqua e mai con il vento perché in Calabria c'è un solo esempio di un unico al vento che è stato creato a strontoli nel 1500 ma già nel 1700 non esisteva più perché era anche economico perché non funzionava quindi noi abbiamo l'acqua e mi spiace non c'è il presidente del consorzio di politica perché io so che il consorzio di politica è fatto dei progetti delle mini centrali delle elettriche sui nostri corsi d'acqua noi abbiamo la possibilità di fare senza creare progetti invasivi di fare delle piccole centrali per produrre energia inesenmente antip llega chi moribano 見て vienore sui spiace qui e � Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.